Lo avevamo anticipato nei giorni scorsi, i dati dell'ARPA Puglia sulla presenza di alga tossica nelle acque della BAT nei primi 15 giorni di luglio non erano affatto incoraggianti, ma i rilevamenti effettuati nelle ultime ore hanno fatto scattare l'allarme soprattutto sul litorale di Biceglie. Stando ai dati pubblicati dall'Agenzia regionale per l'ambiente dopo le rilevazioni effettuate a sud della città dei Dolmen, la presenza dell'alga tossica è molto abbondante con oltre 67.000 cellule per litro d'acqua. Il livello di allerta scatta solitamente dopo le 20.000 cellule e quindi il sindaco di Biceglie, Angelo Antonio Angarano, ha disposto il temporaneo di vieto di balneazione nel tratto costiero nei pressi di ripalta dopo la zona Bimarmi in direzione Molfetta. Il primo cittadino ha inoltre vietato il prelievo di acqua di mare per qualsiasi uso, la frequentazione del tratto di arenile interessato, la raccolta e il consumo di molluschi se prelevati in corrispondenza dell'area di balneazione oggetto della fioritura. Tra le patologie causate dall'alga di origine tropicale come riportato sul sito dell'ARPA ci sono la rinite, la faringite, la laringite, la bronchite, la febbre, la dermatite, la congiuntivite. Il monitoraggio sarà costante anche nei prossimi giorni ma da Biceglie sino al litorale Brindisino si invitano i bagnanti alla massima prudenza e attenzione.